Salve a tutti ragazzi, sono Michele e oggi andrò a recensire un accessorio davvero interessante perché è una casa abbastanza grande o a due piani o più. L'accessorio in questione è il Citycom Wi-Fi Range Extender N300. È un estensore per la vostra rete Wi-Fi che serve ad amplificare il suono, no, 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 non il suono, ma la rete della vostra Wi-Fi, quindi la copertura della vostra rete. In questo caso, perché se avete una casa più piana e più utile, perché se avete una casa più piani, serve per distribuire la rete in tutta la casa. Vediamo cosa troviamo all'interno della confezione. Innanzitutto, appena l'apriamo, troviamo l'estensore. E poi, un cavo Ethernet che ci servirà per configurare il nostro extender. E infine, un manualetto che non serve a nessuno, quando mai uno usa manuale. Per collegarlo al nostro modem, si può usare il tasto UPS oppure con la procedura Wizard. Io vi illustrerò il secondo metodo, dato che è quello più semplice secondo me, anche se in realtà è il più semplice quello col tasto, ma per esempio io che non ho il tasto sul modem, non potevo usarla. Per prima cosa vi consiglio di posizionarlo dove c'è ancora un buon segnale Wi-Fi. Colleghiamo l'extender alla corrente elettrica e con il cavo LAN lo colleghiamo al modem. Dal nostro PC, Mac o smartphone che sia, selezioniamo la rete Citecom xxxxxxxxxx. Andiamo nel sito www.citecom.extender.com e inseriamo le credenziali di default che nella maggior parte dei casi su Admin e Admin. Dalla sezione Wizard selezioniamo il nome del nostro Wi-Fi, inseriamo la password del modem e infine premiamo su apply e poi ancora su apply. Infine spostiamo l'extender nel punto desiderato ed ecco fatto. Il nome della rete dell'extender diventerà quindi la chiave ssid diventerà il nome della vostra rete wifi con il tretino basso EXT. Bene ragazzi se anche questo video vi vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, commentate qua sotto se qualcosa non vi è stato chiaro, tenete la maggiori informazione e condividete il video per aiutarmi a crescere. Ma la cosa più importante di tutte, iscrivetevi al canale. Ciao!